Beh, io quando ho cercato di imparare ad utilizzare il Melodyne ci ho messo almeno un pomeriggio, insomma. Secondo me con un video di 15 minuti come questo sei già a cavallo, perché Michele Pocchiari in arte, Urukai, ha realizzato davvero una bella video recensione. Nel video introduttivo ti spiega in generale che cos'è Melodyne e a che cosa serve, e poi vedrai nel video di approfondimento quanto facile in realtà è utilizzare Melodyne. Diciamo che Michele riesce a riassumere tutto questo in un quarto d'ora. Veramente un'ottima videoguida, grazie Michele. Buona visione e buono studio di Melodyne. Ciao! Ciao a tutti ragazzi di scuolasuono.it e appassionati di recording. Sono Michele Pocchiari, Urukai, dello studio 1 terzo LSB di Milano. Per qualsiasi informazione potete visitare la mia pagina profilo su scuolasuono.it Bene, in questa videoguida parleremo di Melodyne Plugin, versione 1, edito da Selemoni. Useremo il plugin in formato AU, quindi la piattaforma sarà Logic Pro 9. Questo è un potentissimo tool in grado di intonare e correggere il pitch, di strumenti melodici, in genere usato molto su voci, più o meno fuori tonalità, per addrizzarle, ma anche per cambiare, strecciare, modificare, tagliare, fare editing molto complesso ed articolato, degli eventi audio analizzati dal plugin. Abbiamo inoltre l'opportunità di lavorare su loop, partiture ritmiche e quantizzarle in modo creativo, correttivo, anche se vedremo quasi esclusivamente l'approccio alla correzione del pitch di strumenti melodici. Bene, apriamo Logic Pro. Montiamo una istanza in insert sulla traccia usata. Ecco, con questa finestra bianca, con una griglia, che può facilmente essere modificata, relazionata all'altezza delle note in una scala musicale con nomenclatura americana. E, D, diesis, D, C, diesis, eccetera. Essenzialmente l'approccio a Melodine può essere di due tipi. Nel primo, sconsigliatissimo, releghiamo al plugin il compito di quantizzare o pitchare automaticamente gli eventi, con Correct Pitch o Quantize Time. Nel secondo ci occuperemo noi, a mano, di fare degli aggiustamenti del caso sul pitch, sulle transizioni, sulle formanti, sulle relative transizioni, eccetera. Poi vedremo bene cosa significa tutto questo. Bene, come funziona il plugin? Si apre un'istanza in insert sulla traccia che vogliamo modificare. Quindi, qui, come abbiamo fatto. Clicchiamo sul pulsante Transfer. E il plugin entra in modalità Waiting for Audio. Mettiamo un loop della nostra traccia che vogliamo, appunto, essere presa da Melodine e mandiamo in play. Alla fine della nostra ripresa, possiamo tranquillamente mettere stop, ci verrà mostrato, ecco, nella finestra bianca, l'evento catturato da Melodine in questa, con questa grafica, con questa griglia. Avremo poi strumenti e tool in grado di affrontare operazioni di editing piuttosto complesso e non solo per quanto riguarda il taglia-copia-incolla, ma editing particolare sul vibrato, il pitch, l'ampiezza, le formanti e tutte le relative transizioni di ognuno di questi tool. Sia tra singole parole, tra singole note, eccetera. Dei tool che ci permetteranno di fare editing veramente molto complesso. Nel video di approfondimento vedremo ogni tool di Melodine, le differenze tra un lavoro manuale ed uno lasciato fare al plugin, la possibilità di stravolgere voci piuttosto che raddrizzarle, eliminare vibrati indesiderati, accentuarli, modificare le formanti, creare armonie, eccetera. Come detto poco sopra, vedremo essenzialmente ciò che riguarda la modifica del pitching e della quantizzazione di un evento melodico, quindi una voce, una chitarra, sfruttando l'algoritmo Melodic, che possiamo vedere qui in Algoritmo Melodic. Ecco, in questo caso, avendo usato per l'appunto una traccia di voce, Melodine è riuscito a individuare appunto quale algoritmo usare. In questo caso, in genere, ci prende al 99%, infatti, essendo una voce, l'algoritmo usato è Melodic. Vedremo quindi ognuno di questi tool, ognuna di queste funzioni, su delle takes di voci assolutamente non perfette. Ti ricordo che per accedere al video di approfondimento su Melodine, devi effettuare la registrazione gratuita su scuolasuono.it. A presto!